Seconda vincita... 4 agosto 2013, Gabriele Paolini il decontestualizzatore catodico, dove sono? Sporting club, circolo della stampa, il più importante circolo di tennis di tutta Torino. A pochi metri dallo Stato Olimpico, io ho preso un treno alle 6 del mattino, perché? Perché c'era mia sorella che sta partecipando al World Games 2013, 176 paesi coinvolti in tutto il mondo, le Olimpiadi over 35. Allora qua c'è un pubblico, non numeroso, ma sono due amiche, una non vuole farsi riprendere, l'altra sì. Amica di Siglia, eccoci qua. Siglia è in semifinale, commenta Carlo, sei emozionata? Ma sono emozionata perché sono contenta che è in semifinale, però avrei preferito vederla giocare. Ecco, ma due partite vinte per scratch, ma tu lo sai che io mentre... Ma cosa ci hai messo tu lo zampino? Sì, perché io mentre ero nel Frecciarostro ho fatto una perma col sale grosso, ho fatto cadere il caffè una signora addosso, perché i miei caffè sono interminabili, gli dico signora adesso vado a prendere un po' di Brotalco, non c'era, sale grosso, e adesso signora io lo butto, sicuramente, lo butto alle spalle e mia sorella sicuramente vincerà. Quindi prima partita vinta con scratch, seconda partita vinta con scratch. Andiamo a vedere un attimo questo circostitutivo senza riprendere, però che non vuole essere ripresa mia sorella. Qui abbiamo lo stadio olimpico dove ci sono stati i mondiali di sport invernale, guardate, siamo a pochi metri dello stadio olimpico, stadio nuovo. Questo è un circolo splendido, intanto ringrazio anche tutta la direzione dello Sporting Club, che è, ripeto, uno dei circoli più importanti in tutto il Piemonte, il più importante per il tennis qui a Torino. Mi hanno accolto con molta professionalità, ringrazio tutti quanti i validi soci di questo importante circolo di tennis. Qui abbiamo appunto la mia sorella che dopo questa importante conquista del secondo turno, svinto sempre per scratch, arriverà e approdata automaticamente in semifinale. Semifinale che si giocherà mi sembra giovedì o venerdì, ieri sera c'è stata alle 19 di inaugurazione da Piazza Castelli per una marcia di tutti quanti gli sportivi che partecipano, tennisti, non solo, perché sono tutte quante le discipline qui alle Olimpiadi, qui a Torino, over 35. Qui abbiamo una partita, io non mostro perché mi raccomando a non riprendere, io non riprendo, però riprendiamo il campo, ecco qua le reti. Allora, previsione, previsione sì, arriverà in finale, direi di sì. Ci sarà un'alta performance tra mercoledì e giovedì mattina e vediamo che cosa succede. Quindi, per gli amici di YouTube, ricordo dove sono, circolo, sportivo, sporting club o più noto come circolo della stampa. Nato negli anni 40, ho conosciuto Giorgio e Michele, due persone molto simpatiche di una certa età, negli spogliatori, appena sono arrivato avevo le valigie, ero molto accaldato e ho chiesto se si può, un signore ha detto, Paolini vuole usufruire degli spogliatori, dico, va, è già che ci sono e mi sono cambiato, vedete che fa così caldo. Temperatura percepita, 41 gradi, temperatura reale 37. Allora, io vi saluto mostrando solo i piedi di mia sorella, a meno i piedi si possono mostrare. Ecco qua, sta andando ovviamente ad allenarsi per la finale, anzi la semifinale. Ma diciamo già la finale, sei già in finale, via, a posto.